Siamo qua con il delegato dei Caderissi, l'Avvocatore Morino. Cosa vuol dire che non si presenti nessuno a competere con Giulio Ivati, che ha fatto un gran lavoro e che la situazione contingente è così difficile che nessuno rischia di mettersi in gioco? Vuol dire che è stato riconosciuto il lavoro di Giulio, che nel suo quadriennato è riuscito, dove altri non erano riusciti, cioè a rinnovare gli impianti sportivi in maniera decisiva, e vuol dire che gli è stata lasciata la patata bollente di gestire una situazione veramente difficile. So che lui lo fa con piacere e con impegno, è sicuramente molto sfidante il periodo che lo attende per il prossimo quadriennio. Speriamo senza più patate bollenti, presto almeno. Speriamo che migliori la situazione, certamente la strada è ancora lunga, come ha detto qualcuno parlando all'Assemblea, e dobbiamo vedere positivo e sperare che presto si torni a calcare i campi. Ok, Caderissi è pronto? Caderissi prontissimo. Ok, arrivederci sui campi. Saluti. Grazie a tutti.